200 anni fa a parigi c'erano troppi morti e pochi cimiteri milioni di corpi erano stati sepolti in maniera abbandonata si tratta della più grande tomba sotterranea della storia dimenticata fino a stasera dai produttori di solo l'enigmista ho sentito qualcosa c'è qualcuno che sbaglia che facciamo è tutto il mondo dei morti dal 6 luglio al cinema